Da Mantova per giocare a carta bianca. Carta bianca? Sì Valentina, giochiamo. Lei è? Giacomo Cosentino, consigliere regionale e coordinatore di Lombardia Ideale a fronte alla presa bianca. Grazie bianca. Grazie mille, qual è la novità? La novità è che Lombardia Ideale parte anche a Mantova, a supporto di Stefano Rossi, una persona fantastica, preparata, trasparente, confediente, che condivide i nostri principi e i nostri valori. Oltre ai nostri tre coordinatori che chiuderanno un po' la campagna elettorale, Enrico Volpi, Claudio Bauti e Simone Paganini. È bello sapere che la coesione esiste sia agli alti vertici che quelli più bassi, ma per maggiori informazioni, eccoli qua, da Regione Lombardia. Ciao a tutti!